al cazzo duro fare il tesseramento ln basta andare su bisogna andare su ln no elettronic qua elettronic sport italia sd questo sito qui della esi ufficiale e bisogna andare a cliccare su questo no no niente è un video che dopo questo è materiale ma la faccia l'ho fatto volare ma l'ho fatto volare davvero davvero si si mi calza volume al massimo sennò qui non si capisce un cazzo buona gole cosa sto mangiando? sarà pasta credo no? no lo so porco dio ecco è un altro massia questo è un altro massia Matteo HS ma cosa ho fatto con la rafforchetta? si le cucchiai guarda che schifo ma Anna che animale faccio giù di me questo qua che poi cadrà a pezzi piano piano si vabbè ma a pezzi io quando mangino butti via roba no no io non giù guarda lo lanci in bocca così al volo al volo al volo al volo questo resino beffardo che macchinaccia vabbè ma che macchinaccia vabbè ma che macchinaccia vabbè ma che macchinaccia vabbè io no non ce l'ho più ma che c'è cambiata pure la voce Vigi non ce la porcella più matura come 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 più da secchiola 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 sei invecchiato ma non è sembra una ma non è una peripatetica qual è il tuo problema mentale dimmi signore si cambi allora io faccio parte del team che sviluppo del cito web xx lo conoscerei non so cosa sia ma sicura eccomeno va bene praticamente vedo che non ci aggiornate dei video che sono usciti della sua categoria preferita i transessuali devo solo amministrare per produrre bene il mio lavoro devo dire di tornare sul nostro sito e non andare sul telefono web signore signore ci sia ci sta no non ci sto io ci sto io ci sto tu non ci stai da testa però non ci stai in testa ho fatto lo scherzo davvero che coglione in muro privato che coglione cazzo vestito e con il portatilo qui sta eh porco dio no ha rovesciato la bottiglia su portatil aspetta con l'olio con la bottiglia d'olio è riuscita la bottiglia su portatil è riuscita è riuscita liquido su portatil eh porca madonna ahia ahia porco dio ahia no è vero porco dio ti ha rotto lo schermo porca madonna guarda lo schermo quella troia della madonna con quello di mio fratello porco dio ma no 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 ho lasciato una cosa porco dio non me ne sono accorto l'ho chiuso si è crepato in mezzo si è crepato in mezzo ma non devo tenerlo vicino no aveva tutte le righe e si è crepato proprio in mezzo da una parte vedi il desktop e dall'altra vedi tutto scuro ma righe bianche con lo tipo da righe bianche con anti ma fa culo no ma lo puoi scappare si è ammazzato la reaction devi prendere la bustina tio ah le vedrai vuoi che sono le sei già no no sono il 5 e un quarto ma ma fa culo te l'ho detto le sei te l'ho detto le sei vuoi dire qualcosa cambiamo il clock del no cambia testa ti voglio che ti ha spacco ciao 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 vuoi fare un saluto? no stai registrando stai registrando un video ma davvero piccio in diretta ciao 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 ah no questa è finita ciao ciao quella è la pizza ok sei comodo c'è la leva sotto no dico dico c'è la leva sotto ok dico dico che secondo me la cintura mi sa che non ti entra la cintura però aspetta così si lava porco diavolo ma del conto è il caso è difficile ma del culo vabbè mi chiusero ma buona questa è polla ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah non si può adesso bannerebbero sono fare più forte no non si può fare più forte si adesso adesso bannerebbe su qua fare gesti ma ma qui questo non ho facendo adesso lo sto facendo però i gesti vedi questa sicura Non è neanche da giocare guarda il top laner Guarda il top laner Che c'ha Non ha fatto il top laner 0-3 sta dai No Mita è 0-4 È un figlio di troia Di un porto di item Di Okane Allora calmati e giocalo Mi devo calmare Di Okane Guarda che ho perso tutto Liano con le parole perché ti banno Ti caccio e non ti faccio più giocare con me Ma vai a cagare A me cacare Si vai a cagare Ma a me cacare Guarda questo cazzo di cose è un baron Due confezioni No no una Pan Ci sono ancora due C'è anche la pasta Oh c'è bravo Allora Allora E pure il tartufo hai comprato No il tartufo Cazzo no Ma hai preso i funghi Tu la sarà la ricetta del Il funghi lo prese si No lo so c'è quella di Matteo Hs Dopo la guardiamo Si però il tartufo mi sa che era un pelo fuori prezzo Ma il pari di sì ma a parte che il tartufo a me non piace Ma a me non mi sembra E anche il mio amico io Ma il tartufo costa l'acqua Ma si in pratica 80 euro al grammo Non lo so Grammo al chilo se vuoi Peggio della coca Peggio della coca Ok dai continuiamo il video A me cacare Ma speriamo che c'è anche quello che cucina la carbonara Deve esserci Eccolo no No Cosa che sta bene Ma la chiesa delizio Cipolla Ogni volta è con una fila diversa questo qua Basta È il mio Ma cos'è che mangia panetti? No se non ci dovevo Cosa che dove ci sembra no? Il nero è grosso Il nero? Cos'è che hai detto il nero? Il nero è grosso Guarda come lo impugni vede Guarda come lo impugni vede Guarda come lo impugni vede Ma c'ha pure due telecamere Vedi una da sotto Da prendere la carne macinata Non c'ho Tu che sono facendo? Tavernello power Gli gnocchi de carne 3,50 euro Buono Allora la serata prospetta Dura? Sì abbastanza Dura? Hai il ciclo Silvia? No No? Allora Vono Eh 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 Ma non le preca la carne? Ce l'ho una carne Ce l'ho Sì ma te me Ce l'ho una carne Ma non vale così eh Ha scattato Oh oh Ma te ne scappa 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 Esci fuori dal ring C'è un po' il flash Otto Oh c'è un flash Che è successo? Che c'è un po' il flash Che c'è un po' il flash Che c'è un po' il flash si si no 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 vabbè me lo dovevi chiedi in privato però vabbè ma niente dai nooo ma cazzo ma la sviate e vuoi un cazzo qua oh madonna che è successo oh marco un verito nooo ma quanti anni fa? 3,90? 3,90 and this and this oh no vabbè it's unreal ah si forse si la va generando that much power e di un ip dinamico io vi vengo a cercare vi strappo le palle a morsi ve lo giuro ve lo giuro hai una vita veramente di merda hai una vita di merda io vengo lì e ti strappo le palle con le mie mani di me stalle putate le faccio fuori porca di me parca di me no no mo ti sa co su twitch mo te sa co su twitch dove cazzo è? ma tocca adesso no matteo guarda perchè non fai a jarelli invece di no ma tra l'altro non si è mai più giovane ma semmai più giovane decisamente no ti dicono male dalla regia ma qua semmai giovane semmai più giovane e la spera ma no non si è disfatto dopo a fegale la madonna son di si male prese putta scema ma secondo te ma secondo te ma hai due ma hai volato di nuovo putta scema putta scema la forchetta oh minina non è che si faceva nell'alimentare questo tutto è che no la musica ma adesso io sono così sì io sono proprio gioco ok vado fatti vatti 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 bellissimo vai r va fantastico mori è morta morta sbagliato bella bro ahahah 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 chi è xixi 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 questo si chiama xixi xixi non ho neanche mai giocato a risico però dovrebbe essere un po' risico ma sul pc o no non è shayvana ma chi è xixi ma chi è xixi chi è xixi 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 che domanda che hai anche un bel bacione guarda no no come è una cosa del genere che cazzo ne so ma che bella sotto no ma scusa eh è una cosa del genere è come il tuo signore mi viene proprio in me dire non mi viene proprio in me dire come il tuo signore usanna e usanna e usanna e Cos'hai mai, 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 cos'hai mai La vigina, a pecorina! Adesso a padre mio Un altro abbiamo asciugato, è un altro cadavere Oh, riattacca, porco Dio! A me cacare Ragazzi, non mi riesco a muovere, ve lo giuro, non mi sono incontrato Guarda un'attacca, che strana, è un paio Eh? Vogliamo se risponde, dai A porco di arco Dai! Madonna, ha spaccato il telefono Ha spaccato il telefono Vogliamo se risponde, dai A porco di arco Dai! No, una mappa, tu ridi, no, tu ridi, tu ridi Ma voglio vedere se risponde Che l'ho tirato per terra Beh, come stai, mi hanno detto che ti stai sfogliando e sono tu Ma non ti hanno fatto la donazione Tra un po' devi fare il Twitch e ti fanno la donazione quando lo sparti Sì? No, adesso te lo ricompro, cazzo te ne frega? Eh, se ti fanno la donazione che è superiore Ma io, te lo comprano loro, ti fanno la donazione Sì, se ti spacca chiaramente perché sa che gli donano Se no non si mette a spaccare il cold, le sei telefoni Beh, ovvio Vabbè, lo zio lo fa lo stesso Però se ti fai su 200 euro di traabbonamenti e donazioni E poi spacchi un cordless da 30 euro, va benissimo Si fa Spacchi anche 3 o 4 O se fate qualche donazione spacchiamo tutto Quello sono i tuoi investimenti Spaccare il telefono Più spacchi, più vieni pagato Subito a vedere Ma questo è Spacchi tra le tette Porco di abbo Fermate, porca troia, madonna Facci tra le tette Ma chietta nuova, porco di abbo morto Me fai salì l'ormone, porco di abbo morto Me fai salì l'ormone, mannaggia, porca troia Porca puttana, porca di quella puttana Porca la puttana Ah, madonna Ah, mi sono strappato una maglietta, croisto di io Croisto di Dio, parola di una puttana Gesù Cristo, no, porco Ma qual è il pop c'è di questi giochi? Ah, no, lo so A te non piacciono No, ma questo qua mi piace un po' Porca troia Ma fatte che se guardi quelli che fanno Porco Dio, no, no, no Guarda che faccia E' satanato Se guardi quelli che fanno Ma questo è bello questo pacchettamento di fio Ecco, questo è bello Mi spieghi Mi spieghi perché giovevi 22 minion a 10 minuti? 0,4 e 6 master Perché? Sono in multiplayer Jackie Parla Dialoga Parla Perché? Stavi a 22 minion A 10 minuti In 0,4 e 6 master Perché? Noi non le capiamo Ste roba I minion Eh, fai capire Sono i mostriciatoli Però non so un cazzo No, ma nemmeno io Però lui che bestemmia Quello l'ho capito Vabbè Mi hanno dimenticato il cin Salute I cin Che cazzo di capelli ha? No dai Cos'è che fa? Anche lo zio Si mangia la cipolla? Se arriviamo a 10.000 iscritti Poi i capelli rosa No, no Magari biondo, sì Biondo, sì Va bene Biondo, va bene No, la rosa è bella No, la rosa è bella No, la rosa è bella Non voglio cagare Guarda Mi li devo fare crescere un po' La propria scogna Alla cazzo Cosa si mangia panna? Ma è una cipolla Ah, una cipolla Che schifo No, è una cipolla Perché poi andiamo un po' Diventare quasi piccante Come i rumeni Guarda, ma la cipolla cruda I rumeni mangiano l'aglio crudo Sì, ma ne mangiano un casino Tutti piaccano Sì, non fai il pappa Vado a essere razzista Non fai il pappa Cosa sia un cardinale? No, ma noi siamo sul cazzo Parcolio! Sempre Giulio Cesare Le ha scritte No, sembra il pappa Questo Papa di Matteo Sempre il pappa Ma chi è Batman? Quindi Cesare Ma no, sto gioco Di gioco per la vista Mi hanno avuto tutti Di brutto L'ho fatto anche No No Ma no Per apprenderti Per applicare questi cardinale Ma sono lindu Ma sono lindu Ma sono lindu Ma sono lindu Forca, dove hai che bombe? Ha un uomo di cultura? Sulle mani No, le mani ce lo fa le mani Le mani ce lo fa Per carità Non ce l'ho dove Con le casse aperte così Quelle bombe di fuori Non ce l'ho dove pensate voi Insomma Che puttana che bombe? Non ce l'ho dove pensate voi Le mani Neanche lo zio Però è bene ragazzo Effettivamente Allora Oggettivamente È una bella ragazza Ma Bisogna pure conoscerla Per dire Sì è buona Prego Prego Devo seguirla Di spesso Insomma Per Per cercare Cazzo Dessa roba La motosega Se Togli la mano Tra le popole Io a questa ragazzi Gli leccherei Gli leccherei Anche il buro Del culo Porca troia No Così proprio Ma ti è mai capitato Zio così Che tipo Magari Stai guardando un po' E c'è una nutellina Che gira Che si Che devi per forza Togliare Devi togliare la mano Sinché chiede il vuoso No da me Sinché chiede il vuoso Ma è capitato È capitato Ho detto sì Raccontaci l'esperienza È che C'è dei baglioni Guarda che ci sta pure Thor Ci sta pure Thor Non è Thor Sì Non è Thor Non è Thor Questo Vedi che c'è il martello È un consiglio Questo c'entra È Thor È un martello È un reno Ma che cazzo fa No questo è fulminato No secondo me No Guarda che questo tira qualcosa Magari 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 Sboro E qui cosa che fa A me cacare Ma spendo il condizionatore Ecco perché faceva un gallo Della madonna qua Vabbè Ho la testa che Pulsa sulla testa Non so forse La testa che Alza sulla testa Cosa vuol dire Cazzo Ma me devo concentrare Niente C'è che non tira sulla sigaretta Non so forse Non vale qua poi La finestra Ma no ma poi entra dentro Eh poi è buzo Ma è vaniglia alla fine Qui poi vaniglia Si tratta di vaniglia Ma resta il fumo dentro Ma hanno venato 400 euro Porco Dio E poi finisce E poi finisce E poi finisce E poi finisce 5 minuti Facciamo così Bell'uomo Ma andiamo pure Pugiamo la sigaretta Perchè prendere le gire Eh beh certo Anche perchè è finita Vito Beh intanto mettiamo le bibite Intanto mettiamo le patatine Nel contenitore Alla mette le arriva Le tour Sto gioco qui fa pestemiare di brutto Perchè queste cani Torni all'inizio Ma poi li scegli i giochi Che si fanno pestemiare Sì lo fa posto Certo E' lì Dallee Cosa è che c'è Nooo E' la luce Nooo E' la luce Si è l'ombrello della luce Quella che ha comprato Davide Che costa un cazzo Nooo Eh l'ha comprato a posto Si Che fa gli fosse 40 euro Di ombrello E' la luce Non lo spiegare 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 Che sai che cosa gli faccio io A le ragazze che me la fanno usare E poi Non me la danno Cosa fai? Me ne zippo duro A pecorina A pecorona A pecorina Te strappo la puttogna Con i morzi A morzi Così nel capo Mi ha riscritto E sapete che cosa gli ho detto io Vi ho detto Mangate sto pezzo De cazzo Gli ho detto così Gli ho detto Porto di Ma lo giro Manca per i pezzi migliori Dove eri quando Matteo Che Pronto mi senti? Mi sento malissimo Non lo sento Pronto Non lo sento Mi senti parco dio E devo risolverlo Al computer Praticamente Quando stream LoL Praticamente Ma tu ti stai cercando Amore Un negozio? Chi c'è? No Cerco una persona Mi serve Mi serve un aiuto Perché la scheda Non Me va in crash La scheda Quando gioco Con loL Dai Su Ah vai a fare in culo Ma forse ha chiamato un'agenzia di incontri Per dire che la scheda video Li crashavano No No A pecorone A pecorone Intrattenimento Di cazzo Stiamo provando a aumentarla Ma sento che noi è distante 5 km dalla centrale Quanti? 5 km Ebbè non c'è un problema dai Basta spostare la centrale no? E cosa facciamo a spostarla? Centrale Beh se la montagna non va da maumetto E maumetto che va da montagna C'è un modo De No Magari Ti potrebbe fare così davvero No comunque Non mi fa ammettere Non possiamo fare Più di 5 Come un grillo Forna Ah Non ha visto Più di Sceglie Anzioni Ma comunque Magari Anche perché Poi E' gran Ma gusto E' bello Ma diceva Poi Sarà pesantissimo Si Non scarichi Su Pesiti Si Ma penso sia Pesante Anche se la grafica non lo sembra Porca troia Io vi banno Io vi banno Vi Vi banno Porco No Guarda sto cazzo di video Che finiamo lice faccio c'è faccina felice faccina felice faccina felice faccina felice faccina felice faccina felice faccina un messaggio un bot che gli legge a voce il messaggio di una ma poi penso che stia primo letto del tipo dal pomeriggio fino alla notte fonda vuol dire che sta magari dieci tipo un consiglio su come conquistare una donna come auto una donna è tutto investire bene per i soldi una macchina discreta come tanti e fottere come un bordo